Forzerò di essere diretta e altrettanto sincera come te, per quanto mi è possibile. Io credo... No, io sono più che convinta che tu sei il più disgustoso uomo che abbia incontrato da quando sono nata. Nel breve tempo che siamo stati insieme, tu hai messo in luce tutte le ignobili caratteristiche della personalità maschile, anche scoprendone alcune davvero nuove. Tu sei fisicamente ripugnante, intellettualmente ritardato, moralmente riprovevole, volgare, insensibile, egoista, stupido. Sei privo di gusto, hai uno sceno, senso umoristico e per di più puzzi. Non sei neanche abbastanza interessante da farmi vomitare. E che preferisci, starmi sotto o andare sopra? Ti saluto, Derry.